Grande festa ieri sera all'Istituto San Vincenzo di Licata per i 100 anni di nonna Caterina Vecchio. L'anziana nonnina ha tagliato il traguardo del secolo di vita, circondata dall'affetto delle suore e di alcuni parenti. La signorina Caterina, come ci tiene a precisare, visto che non ha mai preso marito, gode di ottima salute ed è lucida. Quando è nata? Che giorno è nata? 12 maggio, 10 maggio, nel 1910. Lei dove ha abitato in tutti questi anni? Dove abitava prima? In via Sostenente, ma non guerra. Buon sole, sono 10 anni che sono qui, anzi 10 anni e 5 mesi, non mi posso lamentare, si vogliono bene, andiamo d'accordo. Da 10 anni è ospite dell'Istituto fondato dal canonico Morinello, che opera Licata. Per festeggiare l'evento è stata celebrata una messa durante la quale è stato consegnato a nonna Caterina un mazzo di fiori ed una targa ricordo.